Sì, perché è questo che dovete cercare. Voi dovete cercare di divertirvi quando fate queste cose. Sì, però voi dovete veramente dare le persone. Quando voi siete in persona, voi siete in tutta la vostra questione. E chiaramente questo è un tipo di volete che sono in pratica. E' un punto qua, quindi mettiamo qua. E basta. Bene, vogliamo fare questo gioco. Prima dovremmo fare due note diverse. Passiamo che condiviamo il gruppo. Questo gruppo farà una nota che darò io con UAI. Ok? UAI. E questo gruppo farà un'altra nota. Bene? Quindi utilizziamo una piccola... La questione degli intervalli. Se non vi so spiegare, ve la faccio provare. Esatto. Quindi farete questo. Grazie a tutti. E io faccio un'altra cosa. 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 E io faccio un'altra cosa.